Mmm, che profumo di... Fontina DOP, ghiacciata in alzato liquido, polverizzata, conservata a meno 20 gradi. Scusi? Piacere Luca, ricercatore Typicalp, un progetto di cooperazione Italia-Svizzera finanziato dal programma Interreg che difende la tipicità dei prodotti lattiero-caseari innovando produzione e processi di filiera. Ah! Venga a Cheese, l'evento dedicato ai formaggi dal 17 al 20 settembre a Bra. Così potrà degustare i prodotti sperimentali della ricerca Typicalp, tra cui la birra al siero di fontina. Wow, mi ha già convinta! Come la contatto? Sui social ci trova come IAR Typicalp. Grazie a tutti!